I marzelletti degli anni 80 si sono evoluti, sono attorno a noi! Cosa stai facendo? Stai per caso giocando al goalkeeper? Dammi qua! Ma lo sai che questi sono i marzelletti degli anni 80 che si sono evoluti, sono diventati più salenti e stanno tentando di portarti via il cervello? Basta! D'ora in poi farei solo attività che aumenteranno la tua cultura e ti permetteranno di affrontare la vita reale! Guarda un po' di tv! Ah, meno male che ci sei tu! Cazzullo! Ciao! 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 Ciao!